Ecco adesso senti Dullio padre di di Energina moglie marito di Mosterina E' un'ultima Mosterina che dico era questo un uomo tanto rico per dover regalare E' vero ci sta come storia Scusami eh eh scusami dopo lui fa soldi con il Julio X Ha creato un business coi schifi Esatto e mi sa che si fa milioni di basagna di regala la macchina nuova Eh Marco posso dire una cosa Mi sa che qua tutti si deve diventare più frocci di ieri Eh stai buono Eh si bene fai di Ecco ecco Vittor non legare adesso ma eh No mi nego pienamente Eh ti te 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 neghi e basta poi ti si ne piegono di sannuare eh Beh è la lana quindi dovrei regaleggiare Ah 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 Noi stai buono che ho delle prove ignoranti in altre termine puntate ignorate Stai buono che le pubblico quando è ora Eh eh ma te fai con te nero Oh piccola vai che ti manda una fonte dei pigioni che... 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 che correnti non devi neanche fa... nel 2000 e mai Quando ho capito ha fatto avvilinirante No No Sono solo in... tre Ah ma si è aperto Si Eh ci ho blablabla, guarda che febbre è aperto quel cazzo se ti voglio che dovete restare attenti per poter entrare io sono il secondo ad essere entrato quindi vediti la mia che tipo mi può ti mettiamo a zappare i raggi eh, se ti sappi che è accusato beh, se ti sappi il culo come sembra da quante case che ti chiamo dai, basta, non parliamo di chi del cazzo, porca beh, perchè faremo di altro appunto dai, 2.260 deposito merci, io so ah, passavo 2.000 Sì beh, vedete il primo trattore è morto 465, buono oh, 9995 ehhh e beh però era meglio il puma secondo me no, scherzavo il puma ce l'ho io, quindi oh, che cazzo ma io io eh, so questo c'è, io a partire della gara non c'è giusto però qua e poi è una gara una partire, una gara clandestina ehhh eh, infatti dai eh, sì con il mezzo, cioè vuol dire la fata episodica ai crecagni eh, guarda 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 che ando qua a scarica con i miei famigli no, no, sono andato a trovare che sei qua che sei qua la gatta di merda Dio ma no se che è il pisa al simbolo si di o fare qua si di o fare qua maledetto maledetto si di o fare i regioni stanno attaccando ma è una figa ahahah se che attacca il simbolo e non mi agaccia a fare oh 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 si, non è stato per me la bottiglia che mi serve ahahah se io non sia giusto tra poco a vero ahahah aspetta che vedo boom dico boom razzismo contro i... contro i dei vedo qua via 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 di buono match up che cazzo le tasto 2 qua non ho capito no, posto e che le clandestine quella bella no, i miei apparti bigliadro di una cosa è tecnici fanno i ricchioni ehm insomma ah, vince chi c'era più grosso però se la mia vota è so bella si, 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 si ritorna di scopo di monster prima 25 diviso 2 insomma eh, fa stavola eh appunto la cazza è monster mh che mondo che fai che fai che fai che fai che fai scolta butta su i siros dopo ti ti disincastri dai oh si va che la cazza è proprio il riempimento proprio della merda di che fai oh grazie no vado la ciappa in cuore dai troietta no No, non so, io no, non so Io so caricare la soglia, io so, io uso No, non so Io so, non so Ragazzi, è quello che mi ha fatto il mio, Marco, questo è stato... ...muy epica Beh, da un lato, da un lato, allora che ti ha fatto so che... Vieni a dar tutto quello Vieni a capire, andando avanti, si, si, mostrino Nooo Poi apri i peni, orca fai Tanto vedo distruggere Si ma, cioè... Ma perchè questa cosa? Edo, ti aveva già fatto il gruffis Ma perchè? Con il nano Nooo, Edo, ci hai fatto prendere... ...como un pollo No, non mi ha chiederei iniettando Ci hai fatto fregare da un pollo No, vabbè, facciamo i trattori qua così Si ma, eh... Gcb, c'è otto cambio, otto cambio E due, e... Stori Lo cambieremo Se uniti a fare, ho fatto luccare dello sinistra Sì, in rio No, lui è in rio Capito E' come i granchi, va del traverso Dai, buono che... Tino dovete dirlo Tito 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 saltei Tito saltei Tito saltei in rio Dov'è che si va a ricaricare l'acqua? Ah... Vai lino E' andare in centro città Sì Ancora meglio che cazzo sia la fontana No, c'è il laghetto con la piccola acqua Il monumento Ah, poi la mente ti è una mappa dedicata a te, quindi sei contento, dai Sì, dopo quando è boia che ti ripatera tutto quanto Mamma, che ducco Mamma, non vedo l'ora che vieni in altra foresta Ah, che incontrata foresta amazonica Mi fa una pipa di un caro Eh, che a scada video io poi provai a te chiedere scusa Vabbè, a mia sostente intera No, che finalmente a scada video dice Ho finalmente confiato il lavoro Mi invece a te copo Mi fa Eh... Mi invece a te copo Sì Si Ed ho can Eh... Mi è... Si ho setto euro Marco, non so che hai passato il contratore in mezzo? No Dopo che metto cricettin Pa' generare la mia energia Perché se no Non ho questa trio Ma se tu puoi letta uscita? Non so E metto Metto Pre In generale Tipo Metto Marco qua a rodetta a girare Mi cricetti Io Che do Che dolore beta Mettete di lavorare Che dopo magari E che ne parliamo Ok Marco 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 Vodora siete così da polenta Mettete che hai dovuto svolto a casa Non lo so Njaka njaka Quando finisco di dare un bere Qua ai cameretti Vado alla crepe E basta Ecco Vedi che non sono l'unico Sarà GCB adesso No ma no, quello dei Quello dei Giulio Ah vabbè No ma se beh Perché si gira subito A se Io caro A su di una torna con i tornei Non ti si può usare La ti si impedì Io Non ti si può usare Che altro Eh appunto Eh E' tipo Bobcat Che si gira a su di una torna con i tornei Eh E' un bobcat Brutto coglione Bobcat è la mar È la marca Madonna di mio Se è uguale al bobcat Se c'è scritto GCB sopra Io Non so No Il bobcat è tutto Ebreo Perché il bobcat è Dove Si Dove Dove Il braccio Che alza bene davanti Invece il GCB E' un monobraccio Tipo il merlo Come Eh Il bobcat è bene E guardate Che dove Che salta Eh Guardate Il cocodè E' il mix La cazzo E' Ecco Quindi è bellissimo Che con questo Stasera Ti stai Grosto E Un titolo Siamo Un poco De frumento Si Non è Ora si vedi Che adesso è quasi pronto Adesso il 17 è quasi pronto Adesso il 17 è pronto Il 17 è pronto Il 16 non è pronto Quasi ho detto Quasi No Si Ecco ecco No Eh a me si aggiornato Tutta notte Ecco E' tutto pronto anche il 17 Mezzanotte 02 Si dice quasi Perché il bcs non lo hai luci Perché son bcs non lo usa Perché ti pare che il bcs che sia dai luci non lo so Non lo so Non so che ti sei anche a te notte Te notte ti usi a torcia Vedi che son andata figa sera Ah vai figa alla sera con il bcs Cazza fai Vedi tu Ma come andare figa con la pe E' so che con la pe si vengono E' buona Con l'apito carico non lo dico ti sei a posto E' che c'è da puire e cavare E' beee E' beee E' beee E' beee E' beee E' beee Marco fa sentire il tuo la tua pigurosità Come hai fatto ieri Ah si e dammi poco Che tutto quanto qua fuori Cos'è che c'è? Ah si beh ah che dammi poco tutto quanto qua fuori eh Basterebbe sistemare un po' Magari ce la non sai No cos'hai capito? Si lo so lo so ho visto si Ah beh si è vero che c'è da togliere tutte le culture Ma che casino Ehm Energy dai andiamo A far cosa C'è anche una palla co Beh i sistemare un po' che il culturale quello fuori Ma Non ti prende una cavaretta che tira su lei Eh ce l'abbiamo so che non si rifiuta di ammattere che ho una pigorella Giusto? Fa in beee No Si rifiuta Che cosa abbia disegnista? Che cosa abbia disegnista? No No Cosa non vede Una pecorella L'ha lavato Eh Però sul sistema Ah mi manca la palla porca puttana Eh si manca la palla qua Ma cosa stai facendo la casa che vede un grumiglioso? Ehm 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 Monster più nella palace Ne ha anche detto capannone Cioè ci sono un po' di Litri Li ha buttati a cazzo I? Ci sono un po' di litri di culturale Scite fuori dal capannone L'altra volta Eh ma Ci vuole la fresca Perché con la palla non riesci Mi sembra Eh buona Ora ce l'ho io Adesso vado un attimino dopo snettare Ho visto che c'è sempre litiga Piuttosto che buttarli Mi sembra anche un rimorchi però No Che fai visto qua qua il Bergman qua Guarda che vedo Qua c'è No ti chiede l'erba Ma che c'è a bagnare qua Oh Gesù Sai che sono arrivato Mi sa che Mi sa che Mi sa che Mi sa che Marco E' un po' di tipo Un po' di un treo E' un po' di un treo Uiii No 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 che mi intercetta il tuo Ma Mi intercetta il mio Eh perché Dio busso Se ne ca' a corto Eh te c'ho dito che era qua davanti Eh te c'ho dito che era qua davanti Nooo Che faccio la felicità Questa c'è lì almeno potevo ah almeno apropo perchè di admin ieri potevo basta non do più a passare ma che sei la pulitrice? si se sta pulitrice mi fa si ma era un pochetto che ero no qualche puntata se sta anche due puntate perchè pulitrice mi fa mettiamo se marco se ne accorge o no mettiamolo lo stesso la messa e io caro che sei la rotta e mi hai messo netta io ho passato la rotta ma io ho visto tutto netta e ho visto come cazzo fai fatto ora ho capito perchè ho visto prima fermo la pollo come la rotta e mi hai messo troppo netta eh perchè ho capito ah troppo pulita ma quindi dove scazzate che mi hai messo la cosa era qua dietro però comunque era meglio anche snettarla così perchè andai molto meglio addirittura minacce contro pollo vabbè vado io ci vediamo ciao 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 perchè hai fatto una cosa non richiesta no bruttissima snettare i mezzi dopo che gli ha fatto cento ore di lavoro mai snettai si pollo pollo vasca di carico co deco co deco co deco co deco si guarda no un oltraggio alla corte suprema si è forte che io rosa eh ragazzi ti urdo ti mando fuori il capo te dao guarda mi fa andare a sto a2 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 son come non puoi vedere se mi sei… non puoi vedere se ti ceivi ancora non ti viene fuori ti sentiamo ilじゃあ sono fatto apposta per risparmiare tempo due a destra che la gira a destra la bambina è quella che è una bada che io metto la freccia a destra invece a sinistra gira a destra ahahahahah qua c'è la freccia giusta? no, era a sinistra verso la strada ah, io invece mi prima ero insieme io si è confusibile la parola che mette freccia a caso mamma mia, l'ho segnata giusta buon, sarò il server buono buonanotte e con questo abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga